Ciao a tutti, vediamo cosa fare quando abbiamo delle piante nuove appena arrivate, acquistate o regalate. Nel mio caso mi hanno regalato queste due piante pochi giorni fa e ne approfitto per fare un video, anche se siamo in settembre e tendenzialmente sarebbe meglio lasciarle come sono e aspettare a fare i rinvasi. Però molto spesso quando arrivano le piante, anche da vivai specializzati purtroppo, sono in terricci molto torbosi, molto compatti, che non sono proprio l'ideale. E infatti si vede subito perché questa pianta, come potete vedere, è molto asciutta, molto magra, quindi secondo me è un po' in sofferenza e secondo me troveremo qualche problema alle radici. Ipotesi mia, adesso lo vedremo insieme. Quest'altra, l'ho già notato, non è ben ancorata, secondo me anche questa ha qualche problema alle radici. Però vabbè, secondo me sono piante assolutamente recuperabili. Quindi faccio questo intervento di pulitura delle radici e della torba. Lo faccio subito per poi lasciarle alcune settimane all'aria aperta. qui in serra e poi rinvasarle in un terriccio che è quello che uso il più comune, torba, lapillo, pomice, un po' di ghiaia o di sabbia, con un 30% al massimo di torba. Adesso lo vediamo in che condizioni sono queste radici. Ripeto, lo faccio adesso perché vedo che le piante secondo me sono un po' in sofferenza, quindi sono già anche in stasi perché siamo comunque a quasi ottobre ormai, quindi le piante hanno rallentato e io le vedo abbastanza ferme, quindi secondo me si può fare questo discorso. Partiamo magari da questa che è una sulcorebuzia, rauschi. La pianta tutto sommato non è male, non è in cattive condizioni, ha anche fiorito, qua lo vedo dai rimasugli del fiore. Ora è un po' alta per i miei gusti ma con il terriccio giusto la farò crescere un po' più bassa e più larga. Semplicemente si va a togliere la pianta dal vaso e, ecco, infatti vedete, si vedeva perché ballava un po' e si cerca di togliere il più possibile anche a costo. Qui attenzione che queste piante pollonate appunto si vanno poi a staccare i piccoli polloni, può succedere e li si mette da parte. Questa qui, come vedete, è quasi tutta torba, c'è pochissima pomice dentro, vedo, pochissima roba. Qui le radici non sono per niente in buone condizioni, me le immaginavo perché la pianta ballava e quindi non è una sorpresa, insomma, vabbè, può capitare, sono due piante regalate. Allora, questa è un po' particolare, nel senso che se insistete molto, come potete vedere, si staccano quelli che sono veramente i polloni, insomma, no? Questo già si stacca molto facilmente. Io sto cercando di tenerla così com'è, cioè di non separarla. Nel caso si dovesse staccare un pollone, ecco, vedete successo questo. Questo è piccolino, non è un dramma, lo si mette da parte, lo si può invasare da solo in un vaso singolo o in una cassetta insieme a altre semine, ad esempio. Allora, quando siamo in queste condizioni, con una radice quasi inesistente purtroppo, non resta da fare che, anche a costo di rovinarne ancora un po', pulirla il più possibile con, magari, un pennellino, come in questo caso. Altra cosa che si può fare quando vedete che la terra è molto compatta, soprattutto in questo caso è abbastanza asciutta e vedo che viene via senza grossi problemi. Quindi, altra cosa che si può fare, stavo dicendo, è bagnare, letteralmente mettere la pianta sotto un getto d'acqua e cercare di rimuovere il più possibile la torba. In questo caso, secondo me, non ce n'è bisogno, posso anche fare a meno. Cerco di fare una pulizia abbastanza accurata senza diventare matto, perché, come vedete, in alcuni punti c'è ancora un po', rimarrà un po' di torba. Si romperà ulteriormente qualche radice, ma non c'è da preoccuparsi più di tanto, anche perché poi le lasciamo all'aria queste piante. Per alcuni giorni, quindi, le ferite si cicatrizzeranno e in primavera, perché adesso non farà niente, in primavera riprenderà vegetarie e quindi, auspicabilmente, butterà fuori nuove radici. Comunque, come vedete, radici un po' ce ne sono, quindi non sarà, secondo me, un grosso problema farla ripartire, questa pianta, che tutto sommato è in salute, ecco. Cerchiamo semplicemente di togliere il più possibile la torba che vediamo, soprattutto alla base del colletto. Ripeto, questa non la faccio per fece, cioè, c'è chi è più maniacale, io francamente non sono proprio così, mi basta togliere il grosso, poi se rimane qualche pezzettino di torba qua e là, secondo me non è un grosso problema, ecco. L'importante, voi soffiate un po' magari per togliere il tutto. Qui è una pianta che non ha formato la radice un po' fittonante, che è tipica di queste sul Corribuzia, probabilmente appunto è una pianta che non è stata coltivata, secondo me, correttamente nel giusto terriccio e quindi non ha sviluppato. Vedete che la radice dovrebbe fare un po' questo, chiamiamolo fittone, cioè andare un po', mentre al centro la pianta madre, da cui possono partire i polloni, sembra addirittura, non è innestata, attenzione, però sembra quasi che si è stato, si sia seccato, si sia staccato, insomma, la parte, diciamo, più carnosa della radice, però ecco, la pianta, ripeto, è in salute e, una volta ripulita, cercando di tenerla agganciata, soffiamo un po', scusate, per me così può andare, non c'è più la quantità di torba, la lasciamo, come ho detto, alcuni giorni al, io la appoggio qua in una scatola di polistirolo, la metto con la radice esposta, in modo che asciuga ancora meglio, anche se è abbastanza asciutta, la terra che ho tolto, si sente anche al tatto, è asciutta, come vedete è quasi esclusivamente torba, con pochissima, pochissima pomice, qualche granulo di concime a lento rilascio, questi sono i granuli, e poco altro torba, terricci non adeguati per i cartoli, purtroppo in commercio, quando, vabbè in questo caso, ripeto, era un regalo, quindi si trovano piante messe in questi terricci, questo è un po' un peccato, soprattutto se il vivaio, magari, è specializzato in piante suppulente, come era questo, da cui sono state prese. Facciamo anche l'altra, già che ci siamo, questo è un Astrophytum Miriostigma Quadricostatum, cioè a quattro coste, anziché a cinque, sarebbe anche una pianta interessante, se non che è abbastanza, come vedete, magra, ridotta un po', non benissimo, ecco, secondo me è un bel po' di tempo che questa pianta non beve, infatti si vede anche che in fondo al vaso, la terra è ancora un po' umida, qui non preoccupatevi, ovviamente facendo questa operazione si andranno a rompere le radici capillari, cioè quelle più esterne, è meglio fare così piuttosto che tenerle e rimetterle in un vaso con questa terra, io preferisco, anzi, consiglio caldamente di togliere tutta la torba, questa, come vedete, che al centro ancora un po' di pane di terra con le sue radici, e pian piano, questa praticamente è torba, direi quasi pura, c'è solo proprio un abbozzo di pomice fine o forse perlite, non saprei, ma proprio una cosa minima, quindi anche, ripeto, a costo, come vedete, anche di rompere un po' le radici, quelle più esterne, io la tolgo, questo ad esempio potrebbe essere utile metterla sotto il getto d'acqua corrente per sciogliere, tra virgolette, tutta questa torba, non escluso che magari dopo il video, perché adesso qua non posso spostarmi, dopo il video magari gli do anche una passata sotto un getto d'acqua, adesso lo facevo per far vedere, ecco, cos'è consigliabile fare quando compriamo o quando ci regalano delle piante, soprattutto se vediamo che sono in terriccio non idoneo e magari le vediamo non propriamente in salute come questa, ad esempio, anche se aveva fiorito, ha degli abbozzi che non andranno avanti, ma questo anche per la stagione. Vedete, questo è il colletto adesso, il colletto quantomeno adesso è pulito, lo si può vedere bene, lì è un po' rossastro e non è normalissimo questo, assolutamente nessun tipo di problema, non è affetto da nessuna malattia, non ci sono parassiti, non c'è marciume, semplicemente le radici stavano soffocando in quel marasma di torba in cui questa pianta era immersa. Quindi se fa tutto il possibile, ripeto, non preoccupatevi di rompere troppo le radici, quelle soprattutto quelle sottili, cercate di farlo con una certa delicatezza, ok? Però non preoccupatevi più di tanto perché è meglio togliere il più possibile la torba. Magari la pianta impiegherà qualche mese a rifare completamente le radici, alcune partono subito, alcune ci mettono un po', non è un problema. L'importante è togliere il terriccio non corretto, il più possibile, perché darà solo problemi e basta, andranno avanti col tempo. Quindi anche qui, pennello, e si passa vigorosamente la radice, che come vedete è molto ridotta, però c'è, quindi questo aiuterà a far ripartire l'apparato radicale alla prossima primavera, perché adesso ovviamente queste piante andranno in stasi, anzi lo sono già probabilmente, e quindi nei prossimi mesi non c'è da aspettarsi, anzi, non c'è da aspettarsi assolutamente niente, non verranno neanche annaffiate, le rinvaso semplicemente nel terriccio corretto, che vi ho fatto vedere prima, e poi le metto da parte. Non al sole diretto per i primi tempi, dopo il rinvaso, quindi sole schermato. Io, francamente, adesso sarei già a posto anche così, non la passo neanche sotto l'acqua, guardate, perché vedete che le radici sono già belle libere, quelle che ci sono. C'è giusto un pochino di torba qua, ecco, togliamo magari questo. Ecco, fatto. E questa, anche questa, è a posto. È molto schiacciata, ma sono convinto che una volta che farà ripartire l'apparato radicale, si rigonfierà e prenderà la sua forma più tondeggiante, più piena, come è naturale. Quindi mettiamo da parte anche questa, un'altra cosa che potete fare, se come in questo caso non ci sono, fate preparati il cartellino, con il nome della pianta, specie, genere, e la data del rinvaso, questo è importante. Le teniamo qua, per due o tre settimane, anche se, ripeto, tutto sommato sono asciute la dici, volendosi potevano anche rimasare subito, però siccome non mi corre dietro nessuno, io le lascio un paio di settimane qua, a prendere aria per bene, poi le metterò nel terriccio. Se volete vedere appunto come salvare piante senza radici, come in questo caso, c'è un articolo specifico, magari vi metto il link qui sotto, sul sito Il Fiore tra le Spine, stessa cosa c'è un articolo specifico, proprio su cosa fare, più in dettaglio di quanto non ho fatto io in questo video, che cerco di tenere il più breve possibile, su cosa fare, su quando abbiamo piante nuove, quando ci vengono regalate, o quando compriamo delle piante nuove. E questa operazione è descritta più in dettaglio, e con più ovviamente informazioni. Trovate tutto qua sotto, il link al sito e anche ad altre sezioni del sito che magari possono interessare. Il sito è in abbonamento, ci sono dei contenuti gratuiti. L'abbonamento decorre da quando ci si iscrive, dura un anno oppure tre mesi, avete due formule che potete scegliere. Questo direi che è tutto per oggi, e vi metto i link, se vi piace il canale mettete un mi piace. Grazie.